Su Reef the Force, esatto, la caduta Qua vedo un pinguino, vedo un pinguino Io vado a vedere giù qual c'è Diamond in the car Io sono sui cardelli, si Siamo delle formiche in un bagno gigante Andiamo a la doccia a lavarci un po' Il prossimo video sarà nel tuo canale A tua insaputa, lo registriamo noi Poi lo mettiamo Ok Ciao a tutti ragazzi, io sono Su Reef E siamo qui su una nuova mappa In compagnia di Stryker e Lore Sheffer Ciao a tutti E siamo qui in mezzo al mare E come al nostro solito Pichiamo quello che inizia Esatto, io vado La mappa si baserà tutta sul mare Dobbiamo stare in mare finché non affoghiamo Esatto Solo che è tutt'altro un blocco Dobbiamo rompere La ricerca del buco Come potete leggere si chiama Welcome to the dropper Un iscritto di It's Stryker Yes Quindi grazie all'iscritto di Stryker Esatto Perfetto E oggi siamo qui in The Dropper By Bigre One goal Suriv the false Esatto Suriv E ringraziamo l'iscritto che si chiama Kev Zennino Kev Zennino Speriamo si pronunci così Ecco Se non si pronuncia così Non uccidere il chip Ti prego Esatto E non iscriverti Mi uccido da solo nell'acqua Non posso Ok quindi siamo qui The Dropper One Goal Suriv The false Si Suriv the false Suriv the false Suriv the false Esatto La caduta Tutte queste cose le leggerete voi Qui sono le impostazioni E levo il command block Ok Le impostazioni E le apriamo Perfetto Entriamo Leviamo la leva Spam di messaggi in chat Reduce il lag Reduce il lag Graphic fast Flower Parfum Ok Beh Penso ci serva Mi sa che c'ho le nuvole Forse anch'io Set Set Clouds off Set day Perfetto Andiamo di qua Ok E c'è un pig Set day Set night Ma è vero che Tieni qui sul giallo Vai No 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 Se vai sul giallo Ti danno delle cose Eh si La vera uno Eccolo qua Belle cose Io mi sdroppo Anch'io Suriv the false E Suriv deve cadere E salvo Salvo subito il primo colpo Io no Io sono già morto Io mi sono salvato Ah sono due per due Non pensavo fosse un blocco unico C'è la musica di minecraft Che la spegniamo subito Ok Di mezzo millimetro Sono caduto Qua vedo un pinguino Vedo un pinguino Oh mi si è cambiato Ho il pinguino Esatto È arrivata la skin di Stryker Da pinguino Oh l'ho fatta Qui c'è un diamante Dov'è che Dov'è che Vediamo il pinguino Ecco qua il pinguino che muore Mi lagga tutto Mi lagga Mi lagga tutto Allora intanto che Stryker muore Vi diciamo che questa serie Non la troverete su tutti e tre i canali A parte questo episodio Ma troverete un episodio su ogni canale Esatto Il primo sarà su tutti i canali Il prossimo sarà su quello di Stryker Quello dopo ancora vedremo Quello dopo ancora Io lo vedo ancora Per ora abbiamo deciso sul canale di Lore Sheffer E il terzo Anzi il quarto episodio Sarà sul mio canale Quindi iscrivetevi a tutti e tre i canali Se volete seguire completamente Questa serie fantastica Se Stryker ce la fa a fare il primo livello Eh ma mi lagga Mi lagga tutto Eccolo qua Stryker E il pinguino che esce dall'acqua Io lo vedo ancora normale No io lo vedo pinguinoso Ok perfetto Adesso dobbiamo andare qua 8 phase di Stryker E 2 di Lore Sheffer E 1 anzi 0 Andiamo a teleportarci Io metto qui nella endo cesta il diamante E non ho nulla Siamo nella 1.5 Non c'è ancora il control per correre Esatto Ah dobbiamo sbloccare il checkpoint di là Ah è vero Sblocchiamo il checkpoint Vai C'è un bel scale Avete settato la notte Andiamo a vedere giù Io vado a vedere giù Ah ho settato giù Eh torna il livello di prima Ah anche con le scale Sì Ok bisogna andare qua allora E qui c'è la seconda caduta Che non mi piace molto Oddio La foresta In verticale Ridurre il lag Performance Power saver No per un pelo Eh l'ha appunto Io ce la fatta E no per un altro fuoco Diamante Vediamo se questa volta ci riusciamo Ci sono entrato anche i girati un po' Ma dove siete? In modo sbagliato E no Ancora al stesso punto Dai che mi raggiungi Mi hai già superato Sì Io sono 8 Sì Ah ah Ops 5 E ci sono entrato anch'io nella classifica adesso del Andiamo a pelo Andiamo a pelo Acqua Eccolo Bravo Eccolo qua Aspettiamo Striker Questa non è l'acqua Dove deve andare No l'acqua alla fine è dove c'è la terra Eccolo che cade Intanto ammiriamo Striker che cade Ed ecco qua l'acqua Eccolo qua Perfetto da ripetere lontana Sempre con la skin di Steve Trovate il diamante Ok siamo pronti per il prossimo livello Tipi 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 Level 3 è in verticale Set spawn Local Ah è di qual livello? Facciamo senza E di qui c'è il Sì ma non sei Tutto colorato Andiamo Aiuto Sì Non vedo il fondo Alla prima Oh no Eh è caduto Sì Andiamo 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 Io prendo il diamante Trovato Bravo Adesso dove è l'uscita? Spirale È sotto Ed eccoci qua Era più facile da previsto L'uscita è sotto? Ah eccolo qua Ok Eccolo più facile Quell'altro Tipizziamoci E set spawn Ok mettilo dentro Ah ma Ognuno vede La propria inter chest Eh va Li mettiamo insieme dopo Ok Quindi Oddio Leva Giù E come si chiama questo qua? Level cars Ah questo qua è quello che dove c'è l'acqua Ah gesto le macchine C'è la macchina d'acqua se non sbaglio Questa qua Esatto Questa qua è la macchina d'acqua Ne son due Ne son due di macchina d'acqua E intanto ciò che chiamo il diamante Eccolo Diamond in the car Io non lo vedo Mi Lo vedo Tutto all'ultimo Lo vedo Che c'è Il terreno Eh ma non so Bisogna aver fortuna Eh no Non è fortuna È l'aglio È un po' di memoria Bisogna avere fortuna E silk touch Guardami Lo vedo tipo L'ultimo mezzo secondo Che c'è il terreno Viene un po' più avanti Cade Ecco uno striker selvatico Prova indietro Prova su questa qua Prova a sinistra Che è più grande Prova a sinistra No E ce l'hai fatta Grande Il pinguino si salva Voglio vederla anche io La schiena pinguino Esci e rientra Ok Lo vedo ancora normale Va bene Niente Ok Non è giornata Io mi droppo Ma soltanto l'agra così tanto Si chiama mine No è normale Miniera Eccola l'acqua Quanta acqua che c'è Non è neanche difficile Questo qua Sì però io l'ho beccata in pieno La roccia Ok ecco qua Siamo già giù Vediamo se troviamo la chest Hai già preso tutto? No Doviamo trovare la chest Doviamo trovare Eh ma non è possibile No non si vede nulla Alla ricerca della chest Trovata la chest intanto? No Eccolo me è su qualche miniera sopra Ma lo vedo adesso No Dovrebbe essere qui Dobbiamo scalare Eh sì perché non possiamo salire Questa montagna Qui non c'era nulla Però adesso mi fa vedere Eccola Lo vedo dopo 27 morti Eccolo qua Stryker è arrivato La porta era di qua se non sbaglio Io sono sui cardelli Sì Qua la porta Ah bene basta Il diamante l'abbiamo trovato Seguiamo il pinguino che entra nel portale Ah Voglio vederlo anche il pinguino Stiamo giù il diamante Allo sento a tutti Stendere Io non guardo neanche Che 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 Cos'è Oddio 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 Per un pelo E' la No E' la cosa dell'acqua Queste sono le cose Cirovati Sono buggato Ok Peccata Ok Ci sono Fatto Bigre è un grande Bigre No per niente Laga è troppo Stamma Siamo delle formiche In un bagno gigante Sì Sì Sopendo Il tappeto che ha alto mezzo blocco di noi E' il calorifero E' gli armadietti Lo specchio Mi sono caduto dal tappeto C'è un cestino Fermo spawn Mi sa che è dentro il cestino Eh si può essere Certo che buttare un diamante nel cestino E' infatti Un diamante nel cestino Proprio Ah sei qua Eh E' su di là Dovremmo tornare alla doccia Andiamo alla doccia A lavarci un po' Che bellezza Anche la doccia però Sì Lascio che a mano Eh Ed eccoci qua Andiamo Tantellando Per la mappa Sbaglio Non scende la fame No Avremo saturation TP Ecco 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 Arrivo anch'io Che non riesco a correre Sei diamanti Eh TP E direi che Devo settare Per oggi può bastare Abbiamo già registrato 15 minuti Siamo già a 15 minuti di registrazione Siamo arrivati al Settimo livello Some holes are closed Qualche buco è chiuso Vediamo Dei codici X0X0 Vediamo nel prossimo livello Cosa vogliono dire questi codici Piccolo spoiler Ed eccolo qua Cosa c'è Cosa c'è Lava Ossidiana Ok Intanto è notte Facciamo un set day E ci ridiamo appuntamento Nel canale di Stryker Eh sì No come il mio Sì Il prossimo video sarà nel tuo canale Sì A tua insaputa Lo registriamo noi Poi lo vediamo Ok Quindi ci rivediamo In un prossimo video Lasciate tanti like Se vi piace questa nuova serie Su The Dropper Commentate anche con altre mappe Se volete consigliarcela già adesso E iscrivetevi Anche a tutti e tre canali E anche al nuovo pinguino Al nostro pinguino Che io non vedo Un pinguino che spara Quindi se volete vedere il pinguino Andate nel canale di Stryker O nel mio Che lo vedete in terza persona Ciao a tutti Ciao 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 a tutti 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 Ciao a tutti